Si reagisce sempre con la serodità, voglia e determinazione di ripartire. Noi siamo concentrati su questo, sappiamo, ecco, dobbiamo credere in quello che facciamo e farlo con più magari determinazione e cattivere in certi momenti della gara. Parlo meglio. Vabbè, quello è normale, si può sempre migliorare, tutte le squadre sono migliorabili e noi in questo momento dobbiamo essere più cattivi nei momenti più delicati della partita e quando magari, come domenica scorsa, non riesci a vincere, non è una partita assolutamente che devi perdere. Insomma, ci vuole anche un Bari che vada tutta birra, giusto per essere in tema? Il Bari deve andare, deve fare le cose come fa sempre, ecco, al massimo, con la massima applicazione, massima voglia perché comunque lo facciamo tutti i giorni per poi la domenica lo dobbiamo trasformare in quello che è una mentalità, una caratteristica che deve diventare del Bari. È stata una settimana particolare visto anche le tante assenze? Sì, sì, abbiamo delle assenze sia per nazionali, che comunque è sempre un bene per la società e per degli infortuni che abbiamo e purtroppo le abbiamo tutte, quasi tutte, in un determinato reparto quindi è quello che ci può penalizzare di più, però siamo in tanti, siamo tutti abili, arruolabili quindi tutti possono far bene e quindi ci saranno giocatori che sostituiranno quelli di prima con la massima voglia di far bene. In queste difficoltà, ecco, dare tutti ancora di più di quello che stiamo facendo e nello spirito proprio e nel sacrificio di sapere di essere in un momento di difficoltà, però è anche vero che qui si vedono i veri, si formano le squadre e si vedono i veri uomini più che calciatori. Quanto ti sorprende vedere l'Avellino così in alto? In Serie B non mi sorprende quasi nulla, quindi tutte le partite sono difficili, nessuna impossibile quindi sono tutte da giocare, tutte le avversarie sono da rispettare. Un po', anche più di un po' lo sto soffrendo perché sono smanioso di tornare ai miei livelli poi è normale, quello che posso dare oggi sono sempre il massimo, però spero di tornare il prima possibile.